Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù e i Suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma Egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai Suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per strada. Essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E, preso un bambino, lo posi in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro, che accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Gesù continua il suo cammino lungo la strada che porta a Gerusalemme e ancora una volta annuncia la sua morte. Sta preparando i suoi discepoli allo scandalo del Calvario, alla notte del Gezzemani. Però anche alla luce della Ressurrezione annunciandolo. Ma i suoi discepoli, come anche noi, fanno molta fatica a entrare nella logica della croce. Perciò, quando arrivano a casa, Gesù, che ha capito che cosa stava succedendo, chiede di cosa stavate parlando e loro si stavano chiedendo chi fosse il più grande fra di loro. Quando le persone si mettono insieme, per qualunque motivo, dopo un po', lo sappiamo tutti, si crea una piccola competizione per vedere chi è il leader, chi è il più intelligente, chi è il più bravo, chi è il più brillante, chi ha più soldi, chi è più capace. Insomma, tutti noi siamo un po' in concorrenza gli uni con gli altri. Ecco, Gesù instaura una logica diversa. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti, che è la logica proprio della croce. Si metta all'ultimo posto. Poi fa un gesto, Gesù, che a noi, forse oggi nella nostra cultura non riusciamo a coglierne tutta la forza, ma al tempo di Gesù i bambini non erano assolutamente considerati, non è come oggi, in cui l'infanzia noi sappiamo che ha un'importanza fondamentale. Finché non avevi 12 anni non eri nessuno, specialmente se eri maschio, se poi eri femmina, non eri nessuno neanche dopo. Però il bambino non aveva nessun peso sociale, nessuna considerazione. Era un uomo che stava crescendo, ma finché non diventava uomo non contava niente. Invece Gesù prende un bambino, lo abbraccia, lo mette in mezzo e dice, ecco, chi accoglie uno di questi bambini, cioè di questi che non contano niente, di questi che nessuno guarda, accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, accoglie il Padre. Cioè come dire questa logica, la logica dell'ultimo, la logica di quello che non conta, com'è difficile questa logica. Tra noi, ecco, tra noi umani, tra noi persone c'è sempre il desiderio di emergere, c'è il desiderio di essere più degli altri, il desiderio di essere migliori degli altri, almeno da qualche punto di vista. Anche il fatto di sottolineare sempre degli altri le cose che non vanno, che sbagliano, è un modo per, in qualche modo, mettere in evidenza noi che siamo migliori. Com'è difficile per noi entrare nella logica invece di essere all'ultimo posto, di essere con quelli che non contano, di essere i servi di tutti. Ecco, questa è veramente la logica della croce cristiana, la logica di una donazione che non aspetta riconoscimenti, autogratificazioni, ma che invece si mette insieme a Gesù a stare accanto al bambino, cioè accanto a quelli che non contano niente, perché lì c'è la presenza di Dio, lì c'è anche Gesù. Chiediamo al Signore che ci dia la capacità di fare, di entrare in questa logica e di fare come ha fatto Lui. Grazie a tutti.